Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una torta morbida al cioccolato e zucca. Prima di procedere con la descrizione della ricetta vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati è sufficiente cliccare il simbolo della campanellina che trovate in fondo a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qual volta noi pubblicheremo un nuovo video. Ed ora vi lasciamo al procedimento della ricetta della torta morbida al cioccolato e zucca. Gli ingredienti sono 160 g di farina 00, 160 g di zucchero semolato, 80 g di burro a temperatura ambiente, 200 g di zucca, 6 g di lievito per dolci, 30 g di cacao amaro, 2 uova e 130 ml di latte. La tortiera che utilizziamo ha un diametro di 22 cm. Iniziamo eliminando la buccia alla zucca, poi la grattugeremo con una grattugia a fori larghi. Uniamo tra loro tutti gli ingredienti secchi ad eccezione dello zucchero, quindi uniamo la farina, il lievito per dolci ed il cacao. Separiamo i tuorli dagli albumi. Metterò gli albumi in una ciotola capiente perché poi li monterò a neve ben ferma. Dopo aver preparato tutto quello che mi serve per realizzare la torta, inizio a lavorare prima lo zucchero con il burro, poi aggiungo i tuorli. fatto questo inizio ad integrare gli ingredienti secchi e il latte, poi la zucca. Grazie a tutti. Concludiamo integrando con un cucciaio di legno gli albumi montati a neve ben ferma. adesso non ci resta che trasferire il composto nella tortiera imburrata ed infarinata e cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta potete esprimerlo con un pollice in su o lasciare dei commenti. Vi aspettiamo numerosi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.